Eni, imprese appaltatrici della raffineria di Gela, hanno firmato il patto per la sicurezza estendendo il campo di applicazione dai cantieri di costruzione, come si faceva in passato, anche alle attività di routine, facendolo diventare un modello di gestione. Il patto è stato siglato ieri alla presenza della responsabile Eni, Giuseppe Ricci, e di tutti i contrattisti impegnati nelle attività sul territorio. Il patto, che negli ultimi due anni è stato progressivamente applicato ai cantieri di costruzione, viene ora esteso anche alle attività di routine, diventando un vero e proprio modello di gestione della sicurezza in Eni. Sulla sicurezza, dice il colosso industriale, Eni da sempre non fa distinzione tra i propri dipendenti e i lavoratori dell'indotto e tutti gli indicatori di sicurezza vedono coinvolta la forza lavoro. L'impegno e il coinvolgimento profusi da tutta l'organizzazione ha prodotto i suoi frutti e gli indicatori di sicurezza Eni sono migliorati di cinque volte in cinque anni, ponendo Eni al primo posto tra le maggiori oil e gas e di ordini di grandezza meglio della media italiana e europea. Oggi la probabilità di infortunarsi in Eni è pari a 0,2 per ogni milione di ore lavorate e moltissimi siti industriali vantano molti anni senza infortuni, mentre la media dell'industria italiana e europea è di oltre 10 infortuni ogni singolo milione di ore lavorate. Risultati eccellenti che Eni vuole consolidare e migliorare fino al raggiungimento di 0 infortuni in tutto il gruppo, un obiettivo molto ambizioso per il quale è indispensabile mantenere sempre attenzione e attenzione ai massimi livelli. Per questo è stato implementato un sistema di regole e controlli molto rigoroso che parte dalla qualifica dei contrattisti fino al feedback sul loro operato. Eni vuole il proprio pieno coinvolgimento ed è questo lo scopo del Patto per la Sicurezza, una partnership che parte dai titolari delle imprese che vengono coinvolti nella definizione della strategia e nella sua attuazione. Eni mette a disposizione gli strumenti dal sicurometro al portale della sicurezza per le ditte terze dalle iniziative di comunicazione e gli interventi di formazione giuntiva contro l'incampo ad effettuare congiuntamente e si pretende una piena integrazione e collaborazione sulla sicurezza tra Eni e le ditte contrattiste. Il funzionamento del Patto è affidato alla Safety Competence Center di Gela che con i suoi circa 140 leader nella sicurezza assicura che tutta l'organizzazione interna e dei terzi funzioni secondo la strategia condivisa, una combinazione di rigore e coinvolgimento che è la ricetta ideale per continuare a migliorare in un campo, quello della sicurezza. Un'innovazione che ne distingue da ogni realtà industriale al mondo e che potrebbe in futuro diventare un modello virtuoso da esportare all'esterno.